Chi scappa dalla Nigeria, io ho incontrato rappresentanti della Nigeria, chi scappa dalla Nigeria, sono tre regioni, principalmente quella di Iobe della Nigeria dove c'è Boko Haram e quelle persone che vengono perseguitate dall'istramismo islamico scappano nelle regioni, nelle altre stati uniti della Nigeria che sono 36 Chi sta arrivando in Italia, no fate infine, chi sta arrivando in Italia, sono persone dal sud della Nigeria, non scappano da una guerra anzi è tra le regioni più ricche e su cui si può investire di più di quello Stato perché è una nazione molto ricca alla Nigeria e non stanno scappando dalla guerra, scappano per il sogno occidentale Allora Federica Altrimenti raccontiamoci le balle che sono tutti che scappano dalle regioni di Iobe, di Akamawa che non è vero